Amici beccati sul canale dove mi leggiamo l'elaborazione di autosportive. Avete comprato una Toyota GT86 e non vi soddisfano alcune cose? Seguitici sul video e vi faremo vedere cosa abbiamo fatto. Abbiamo già presentato altre volte, abbiamo già presentato diverse volte la Toyota GT86 che sono macchine veramente molto particolari. Come ho spesso descritto negli altri video, una delle caratteristiche di questa macchina è che è stata fatta in collaborazione con la Subaru, infatti la stessa macchina grosso modo viene marchiata, viene commercializzata dalla Subaru con la sigla IRZ. Una delle caratteristiche fondamentali in questa macchina è il peso in sostanza. C'è il rapporto peso-potenza, ha una potenza di 200 cavalli e un 24 cilindri MOX, ha stirato ottimi. Una macchina ancora, diciamo, per inculisti, 200 camaldi a 7000, in erogacce 7000 giri, quello che è la caratteristica fatigliare è il peso. Anche il peso a 1200, diciamo, un rapporto peso-potenza veramente notivo. Altre caratteristiche sono, appunto, la frazione posteriore con differenziali alti blocchi. Fatta questa premessa, allora, vediamo subito quello che abbiamo fatto. Una delle richieste, per esempio, era quella di enfatizzare il sound, il sound, il sound, il tranquillo sportivo. Questo è l'impianto di scarico originale. Quindi, come potete vedere, questo è il silenziatore originale, quindi con un barilotto veramente di dimensioni molto, molto generose. E questo è il tubo centrale con, quello che si suol dire, il rompifiamma. Con questo montato la rumorosità era veramente deprimente, certo, non aveva praticamente rumorosità. Noi abbiamo montato, quindi, in sostituzione, abbiamo montato il tubo centrale, che si collega appunto con l'arteriore. Diciamo che da qui indietro, da questa flangia qua indietro, abbiamo cambiato tutto. Quindi questo è il tubo centrale che va a eliminare quel rontisiamma che avete visto prima. E questa è la soluzione del terminale, ma è molto agevole, perché siamo un po', quindi così non riesco a alzare la macchina, colme un terminale omologato. Questa è l'omologazione all'interno di questa busta, c'è l'omologazione specifica. Come vedete, è per essere omologato a comunque simplici un senzatore. I dati dell'omologazione sono stampigliati su questa targhetta metallica. Le due uscite sono da 112, se non mi ricordo male, sulla misura precisa non mi ricordo, comunque doveva essere 112, perfettamente integrate nelle due ASOR, e quindi Agerson, devo dire, come al solito fa, nei prodotti fa che molto, molto bene. Il discorso è che appunto, avendo il silenziatore appunto chilo più piccolo e avendo tolto il centrale, la robosità sicuramente ne è banale. Non è che si ottengano robosità, diciamo, eccessive, perché avremmo dovuto a questo punto fare un tubo diretto, però come ho spiegato tante volte, il giusto compromesso è quello di, diciamo, linearizzare il centrale e di mantenere un terminale silenziato, chiaramente meno silenziato di quello di serie, in questo caso, diciamo, la giusta calibrazione la si raggiunge perfettamente, la più non si hanno sonorità o prombosità che possono dare fastidio, che normalmente mi avrò sui 2.900, 3.100 giri, o nel classico regime di giri, dove se uno fa una linea diretta, diciamo, dal totale, chiaramente, può veramente dare fastidio. Quindi, il discorso del ministerio lo abbiamo risolto in questo modo. Poi, altre richieste del strip è stata quella di sostituire le molle, rispetto a quelle originali abbiamo cambiato le molle, quindi queste sono le molle con le spire in gomma in maniera tale da non andare a creare delle viciculi strani, questa è la posteriore e questa è l'anteriore. La cosa molto bella oltre a queste molle è che sono completamente, adesso non ci serviva, comunque ve lo posso assicurare, sono completamente infilate nella gomma. Quindi, una delle caratteristiche di questo lavoro è proprio quello che va a poggiare sul piattello inferiore dell'ammortizzatore e sul supporto superiore, il famoso tampone superiore, non poggiando, non mettendo a contatto metallo su metallo, quindi questa è una cosa veramente una chicca che però diciamo risolve parecchi problemi che spesso si ottengono con molle magari più economiche che sono completamente diciamo in acciaio senza nessuna protezione, quindi andando a toccare sui due piattelli chiaramente vuoi perché si sterza la macchina, vuoi per altre cose, ogni tanto si sentono dei ciboli che bisogna assolutamente ridare. qui anche il disfosso a sette è stato risolto, poi altri lavori che adesso sono perché la macchina è sul ponte quindi diciamo che l'abbiamo presa in corso d'opera, il cliente ci ha chiesto di verniciare le pinze freno con queste andranno completamente smontate, sabbiate, perché qui chiaramente sono sporche, quindi andranno sabbiate, portate a grezzo e poi verniciate con la vernicia ad alta temperatura. Ecco, parlando di questo di questo lavoro che apparentemente sì, è semplice, non c'è bisogno di chissà quali competenze per fare un lavoro del genere, l'unica raccomandazione perché ci è capitato proprio la settimana scorsa c'era entrata una macchina che aveva fatto un lavoro analogo però poi non era la giornata in cui stavo facendo i video perché non l'abbia potuta documentare però ve lo riscrivo io velocemente a voce c'è stata questa macchina di un lavoro fattore da un'altra azienda non citiamo nomi che ha utilizzato probabilmente una vernice non irazzi non probabilmente sicuramente una vernice non idonea cioè la vernice classica della dozzeria e questo per cosa può portare che scaldandosi la pinza quando ho scordato la macchina a una certa diciamo potenza il pinza sono una certa dimensione scaldano moltissimo e ha cotto la vernice fa che aveva questa vernice con delle parti proprio più scure quasi diciamo bruciate la vernice si è proprio bruciata dal calore mentre utilizzando appunto una classica vernice ad alta adatta alle alte temperature questo tipo di problema ne sussiste quindi attenzione ai fai da te utilizzando vernici impropri perché poi si corre il rischio di avere questo genere di problemi e soprattutto poi per rimediare abbiamo dovuto fare il doppio del lavoro un conto a esmoltare a pulire una pinza grezza come questa che se anche non viene pulita al 100% comunque la si può verniciare perfettamente un conto è andare a scrostare una pinza già verniciata sulla quale sulla quale non possiamo andare a stendere la vernice perché scivoleremo via quindi attenzione a non farci fare il doppio del lavoro perché alla fine è comunque un extra costo che noi siamo costretti ad adebitare io direi che questa Toyota anche per oggi come ho previsto vi salmente invitiamo a cliccare su anna su Facebook canale iscrivendovi per rimanere sempre un saluto alla prossima